La gente invidia Sara perché lei è la mia roba, è bella. L'altro giorno Paolo, io e Eva, mi sono incazzato nel bar della stazione di Cerno. Stavo parlando con i ragazzi, dicendo io ho l'onore di conoscere, di amarla come me. E questa che ha detto questa qui? Cosa ha detto questa qui? La Tommasi Zocchi. Che cosa ho detto io? Cosa ha detto questa signora? Io ho cominciato a volare in tutta la stazione, non si permette più di giudicare una persona. È mio quel Paolo, devo dividere in tre. Chiaro? Però io giunto ancora una volta alla manichetta. Ma io ci sono. Di capo io sono artista sempre. Di capo io sono artista sempre. Infatti non avrei parlato. Mi darete la possibilità di fare un'altra. Domani ho parlato con Federico, domani salutiamo con Sattiano e Federico. Perchè giustamente non bypassiamo nessuno. Quindi con Federico ci conosciamo tanti anni. Noi ci siamo conosciuti una volta nel suo primo film. Quando io ho fatto il suo primo film come è il suo film? Ma veramente? Eh già, vestito da breve. Noi ci siamo comunicati. Noi ci siamo nostrirese che vengono a fare un po'守ione. Non lo questo domani non preparare un nuovo film.